Sono Remo Sabatini, sono qui nel bel mezzo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Siamo qui con la guardia del Parco che mi ha accompagnato Marco, siamo venuti da Yoga, una splendida femmina di orso bruno marsicano, l'orso bruno marsicano è la specie di orsi più rara del pianeta. Un bellissimo esemplare, un orso veramente incredibile a cui si sta avvicinando, è bellissima. È una vecchia conoscenza, eravamo stati qui da lei già un paio d'anni fa. Siamo veramente a due passi da lei. L'esemplare è meraviglioso, una delle meraviglie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che custodisce da sempre. L'orso bruno marsicano è una sottospecie, parente stretta dell'orso bruno più grande che possiamo immaginare in altre località come il Nord America. La nostra, quindi, la nostra specie di orso bruno è un pochino più piccola rispetto al cugino nordamericano. È un animale che può apparire sornione, quasi lento nei movimenti, ma vi assicuro che è capace di poderosi scatti. Scatti può raggiungere anche notevoli velocità nonostante la stazza. Cerchiamo di avvicinarci senza dare disturbo all'orso che adesso è occupato a mangiare. È un oasi di pace. Grazie. 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 Grazie a tutti.